Sia Roma che Torino sono alla ricerca per la prossima stagione di un difensore centrale e nell'ultime ore si è fatto largo il nome di Ryan Bania, classe 1999 del Fatih Karagumruk, società turca allenata da Pirlo. Bania che è appunto classe 1999, nato a Modena quindi italiano di nascita e di seconda nazionità turca. Alcuni di voi mi hanno chiesto appunto di parlarne in relazione all'interessamento del Torino, soprattutto perché a fine anno insomma dirà quasi sicuramente addio Gigi e secondo me un eventuale acquisto di Bania sarebbe catalogabile appunto come sostituto di Gigi. Difensore che anche fisicamente e discretamente assomiglia, bagna adesso di piede 194 centimetri, ottime fisicità, buona velocità insomma per la mole che ha, una bella muscolatura lunga, bella falcata e ripeto e soprattutto veloce in relazione alla mole. Un giocatore che è molto di anticipo, che ha una bella vigoria, pulito negli interventi e che ha delle belle letture in fase insomma di avanzamento verso il centrocampo appunto per andare a contrastare il diciamo l'avversario. Alcuni di voi mi hanno chiesto anche di parlarne in relazione ad IEN, difensore centrale del Verona, che insomma quest'anno si è messo in luce insomma per una grande parte della stagione e che sta dimostrando appunto di come il ruolo di difensore centrale si possa vestire attorno al giocatore svedese ex attaccante. Diciamo che sono due giocatori che interpretano ruoli in modo diverso e che entrambi mi lasciano dei dubbi. Riguardo IEN soprattutto ho dei dubbi riguardo le letture puramente da difensore. A volte lui è molto irruento, quasi scomposto, poi ha delle grandi dotte atletiche IEN, soprattutto il recupero, in impostazione. Però gli manca secondo me quella capacità di lettura dell'azione e della manovra avversaria da difensore puro. Bania invece interpreta ruoli in modo diverso e un po' più tra virgolette alla Bremer. Bania è un giocatore più fisico che cerca più il contatto, più di pressing, più di marcatura. Quindi se si va a collocare, a pensare un Bania come un sostituto sul campo di Bremer a livello tecnico-tattico Io appunto preferisco Bania. Mi dà più garanzie. Anche su di lui però qualche dubbio ce l'ho. Ma semplicemente per un fatto, io c'ho sempre questo pallino, no? Un giocatore che fino a un anno fa ha giocato in Cii, che sta facendo bene al Karagum Rook, può rivestire il ruolo da leader difensivo del Torino? Io onestamente penso di no. Sarebbe un buon acquisto al giusto prezzo. Se però il giusto prezzo, da come si parla, è 3-5-6 milioni di euro, contestualizzati in una squadra come il Torino, che già dovrà rinunciare a molti riscatti, perché insomma, Kair non è molto propenso a investire più di tanto, Io penso che 5-6-7 milioni per un difensore centrale dal pedigree di Bania siano veramente tanti. Quel valore il Torino, secondo me, potrebbe spenderlo per un giocatore che è direttamente importante per la prima squadra. Un Bania ad ora, che fondamentalmente è esploso questa stagione, perché nella 21-22 aveva un ruolo super mega marginale nel Faticara Gum Rook, quella cifra è troppo importante, secondo me. Allora, a livello economico, io andrei prettamente su Ian, perché ha già esperienza, quindi io 5-6 milioni su Ian li spenderei, sebbene come caratteristiche preferisca Bania. In un difesa del Torino, poi dipende sempre come la si vuole costruire, perché ripeto, Ian e Bania sono difensori completamente diversi. Certo, poi da vedere il mercato in uscita del Torino, perché se poi dovesse uscire Scurs, e penso che un po' di interessamenti ci saranno, e il prezzo dovrebbe aggersi sui 30 milioni, allora ecco che se tu hai sul mercato, spegni una cifra importante per un difensore, e poi ti prendi un Bania come riserva, lì ci può stare in pieno. Però ecco perché sono un po' in dubbio tra i due, perché Bania mi convince più a livello tecnico-tattico, e nel livello di affidabilità e di esperienza, in Serie A, perché fondamentalmente Bania non ce l'ha. Gioca in una formazione che è ottava nella Superliga Turca. questo è, prima o altrimenti, primavera, C e D. Quindi ripeto, è di difficile soluzione questo dilemma. Bisogna sempre vedere l'anno prossimo come si vuole costruire la difesa del Torino. Chi resterà? Chi partirà? E quali sono le richieste di Juric? Perché sembra che Juric, a quanto si dica, si dice, sembra che Juric resti l'anno prossimo, a patto di ricevere offerte dall'estero. Staremo a vedere. Ovviamente voi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di Bania, o se preferireste Ien, appunto Bania. Ah, dimenticavo, contatti di scadenza del 2025. Quindi, discretamente a lunga scadenza. Ripeto, per qualsiasi cosa, fatemi sapere qui sotto le curiosità, se volete più che altro informazioni ulteriori, firmando un abbraccione, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!